oggi 8 marzo si piange un'altra giovane donna uccisa per mano di chi diceva di amarla 35 anni di nazionalità ucraina uccisa rosarno nell'appartamento in cui viveva con il compagno anche lui ucraino l'uomo è stato fermato nella notte dalla polizia dopo alcune ore di ricerche ed è sospettato di essere l'autore dell'omicidio il corpo è stato trovato nella tarda serata di ieri alla vigilia del giorno della festa della donna dal proprietario dell'appartamento in cui la vittima viveva sul corpo della donna da un primo esame del medico legale sono stati riscontrati molti segni di violenze di colluttazioni anche pregresse sul posto intervenuta la polizia gli investigatori si sono subito messi alla ricerca del compagno della vittima che nel frattempo aveva fatto perdere le sue tracce avviate le ricerche è stato individuato e fermato nelle campagne di rosarno la coppia viveva da molti anni a rosarno ed erano immigrati regolari secondo un'analisi realizzata per l'otto marzo dalla direzione centrale della polizia criminale i casi di femminicidio in italia nel 2022 sono stati 103 dall'inizio del 2023 20 sono le vittime a queste purtroppo vanno aggiunte gli ultimi due casi quello dell'anziana uccisa dal marito a trieste il 6 marzo e il femminicidio avvenuto a rosarno in provincia di reggio calabria proprio l'otto marzo la violenza di genere è una delle principali forme di violazione dei diritti umani in tutte le società alla sua radice c'è una cultura patriarcale che alimenta storici divari di genere secondo i quali la donna ricopre un ruolo inferiore all'interno della società in ogni suo ambito dall'istruzione al mondo lavorativo dalle relazioni di coppia al lavoro di cura familiare una visione che non contempla nessuna emancipazione della donna dai ruoli prescritti e che troppo spesso si traduce in atti di violenza psicologica e fisica frattigione all'istruzione 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 a